Allora, Zeus è quello chiaro, vediamo se riesco a prenderlo, eccolo qua, e Achille è quello scuro, sono simi spinoni, ma sono proprio dei spinoni, perché hanno tutte le caratteristiche degli spinoni. Oppi là, stai fermo, non saltare, fermo, fate i bravi. Faccio più di un video, vediamo un po' di quello che potrebbe interessare. Eccoli qua. Eccolo qua, questo è quello più scuro, quello che sei interessata tu, Sara. E questo è quello più chiaro. Eccoci qua, sono bravi tutti e due. Non mi saltate addosso, ecco qua, ti parevo, come ti do un po' di confidenza, voglio giocare. Fermo. Eccoci qua. Quello è un pochettino più scuro e quello là un pochettino più chiaro. Naturalmente sono fratelli e il peso è quello approssimativo intorno ai 20-22 kg attualmente, penso. L'ultima volta che li ho pesati, quello più scuro faceva 18, quello più grande, quello più chiaro faceva 20 kg. Adesso saranno un mesetto, più di un mese di peso, però eccoli qua. Ovvero. Ecco. Ecco.